L'applicazione delle procedure per la raccolta differenziata dei rifiuti a Vittorio Scoglitti necessita di un dibattito con le aziende del settore alimentare e quanto afferma il presente alla sezione ASCOM Luigi Marchese è ciò con l'obiettivo di illustrare nei dettagli le procedure di raccolta per comprendere le effettive necessità dell'intero comparto. Per questo motivo l'ASCOM ha quindi deciso di indire un'assemblea rivolta ai settori alimentari, pubblici esercizi, ristorazione, grande distribuzione organizzata, prodotti ittici, macellerie, panifici e pizzerie. L'appuntamento è in programma lunedì 6 febbraio alle ore 16.30 pressi locali ASCOM in Via Fanti. L'occasione sarà utile, ha commentato lo stesso Marchese, per un confronto il più proficuo possibile sulle nuove procedure da utilizzare con l'avvio della raccolta differenziata sul territorio comunale. Per quanto riguarda la gestione di questo servizio siamo di fronte ad una svolta epocale ed è dunque opportuno, conclude Marchese, che tutti gli operatori del settore siano messi nelle condizioni di poter espletare al meglio i propri adempimenti.